Sul fine vita io penso che la discussione deve essere fatta veramente in Parlamento, sono questioni davvero delicate e bisogna avere un confronto e trovare delle soluzioni tra chi la pensa in maniera diversa. Lei alluda il provvedimento che è alla Camera? Sì, sì. Ieri sera non è passato un emendamento soppressivo? Sì, sì, va bene, ma mi auguro che si trovi una sintesi tra le parti. Parlando proprio da chi sembra più radicale magari nelle posizioni, ma bisogna trovare una sintesi.